Ciao a tutti! Sfida un uomo e diventa una sfida per lui, i segreti da conoscere. In questo video voglio spiegarti cosa devi fare per sedere un uomo, cosa devi fare per conquistare un uomo, cosa devi fare per farti amare da un uomo. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base, connezzoni mirata, abbonamento top, connezzoni mirata e videoregistrazioni, seminari dal vivo, abbonamento master consulting, con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema sfida un uomo e diventa una sfida per lui. Allora, la cosa fondamentale che devi imparare a fare assolutamente, se vuoi sedere un uomo, se vuoi conquistarlo, se vuoi far sì che si innamori di te, è sfidarlo, è diventare una sfida per lui. Allora, quali sono i segreti che devi conoscere per far questo? Intanto tieni presente questo, che molta parte degli uomini ha questa esigenza inconscia, per diversi motivi, tutti ce l'hanno da un punto di vista istintivo. Anche le vostre nonne, anche voi che siete anziane, dicevano, se avete visto delle nonne, dicevano che l'uomo è cacciatore e quindi deve cacciare. La caccia rappresenta una sfida, quindi c'è un'esigenza istintiva. E poi c'è da dire che molti uomini hanno anche vissuto una sorta di tradimento da parte della madre. Sono in tanti, non sono tutti, ma sono sicuramente la stragrande maggioranza. E tutta questa tipologia di persone vede una competizione con la donna, cioè non gli frega niente di una donna che è disponibile per lui, che è pronta a coglierlo a braccia aperte, volevo dire gambe aperte, ma va bene braccia, non è, diciamo, non è interessato a una situazione di questo genere. Cioè è interessato per sfruttare, per prendere, ma non per dare. E quindi poi dopo, una volta che ha preso, una volta che il pesciolino ha mangiato quello che tu gli hai dato, ti dice, arrivederci e grazie, finita la festa, gabbatulo santo. Per cui, tieni presente questo. E allora, che cosa devi fare? Cosa devi fare? Devi cambiare mindset. Devi cambiare mentalità. Devi cambiare atteggiamento mentale. Perché, quando tu sei coinvolto con qualcuno, qui parliamo di qualcuno che ti piaccia, qualcuno che ti coinvolge, non il figlio del portiere, del quale non te ne frega niente, o, diciamo, il catramista disoccupato, sotto, per dire, cioè di qualcuno che ti interessa, qualcuno che ti piace. Allora, normalmente, quando c'è qualcuno che ti interessa, qualcuno che ti piace, che fai? Cosa pensi? Pensi, come posso gratificarlo? Anzi, cerca addirittura di anticipare i suoi bisogni. Ti poni la domanda, cosa vuole? Come posso soddisfare al meglio i suoi bisogni? Come posso aiutarlo? Come posso far quello che lui desidera? Sperando in questo modo di sedurlo. Sperando in questo modo di conquistarlo. Invece no. Invece in questo modo non seduci nessuno, in questo modo non conquisti nessuno, in questo modo diventi solo una zerbina, su cui si pulirà le scarpe sporche di fango ogni volta che avrà voglia. Io ho detto fango, potevo dire anche qualcos'altro. E questa è la cosa che succede. Noi invece devi cambiare mindset, devi cambiare atteggiamento, non farti più la domanda che cosa vuole, ma fatti la domanda che cosa voglio. Che cosa voglio io che faccia per me? Che cosa voglio ottenere da questa relazione? Fatti un'altra domanda. Come lo posso sfidare? Che sfide vi posso lanciare? Fatti un'altra domanda. Come posso sorprenderlo? Come posso apparire diversa? Perché tieni presente questo, che l'emozione vuole diversità, non vuole massificazione. Quindi cerca di fare delle cose diverse. Se ti sei zerbinato fino adesso, sparisci. Se prima eri disponibile, sei indisponibile. Se prima eri nei secoli fedele come l'amma dei carabinieri, inizia a fargli le corna. E fai qualcosa di diverso. Soltanto in questo modo gli lancerai una sfida. Soltanto in questo modo diventerai sfidante per lui. E questo è un qualcosa di fondamentale. È un qualcosa di fondamentale. Tieni presente che se vuoi conquistare un uomo, devi passare attraverso questi meccanismi, questo nuovo mindset, questo nuovo modo di fare. Perché altrimenti continuerai a fare gli stessi errori, continuerai a rimuginare, continuerai a rimanere dentro le stesse, per così dire, prerogative, dentro le stesse caratteristiche. Non riuscirei mai, e poi mai, a diventare seduttiva, seducente e a conquistarlo. Quindi sta a te scegliere cosa devi fare. Ma tieni presente che se vuoi ottenere dei risultati, devi seguire queste indicazioni. Ottenere il risultato di farli innamorare. Bene. Per questo video è tutto. Tra l'altro, un'altra cosa fondamentale, devi anche flirtare. Non devi diventare seriosa. Quando una donna piace a un uomo, diventa, come dire, seriosa, diventa tutta... No, devi essere sempre giocosa, flirtare, sedurre, avere... Cioè, questo è l'arte della seduzione. Bene. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base, con lezioni mirate. Abbonamento top, con lezioni mirate. Video registrazioni, seminar da vivo. Abbonamento Master Consulting, con di più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.